Affondi, in avanti. In piedi, gambe divaricate come l'ampiezza delle spalle. Eseguire un passo in avanti, mantenendo il tronco, il più eretto possibile. Piegate il ginocchio dell'arto avanzato, fino a formare un angolo leggermente acuto, oppure retto. Facendo forza sulla gamba davanti, ritornate in posizione di partenza. Attenzione! L'ampiezza del passo in avanti varia la distribuzione del carico di lavoro sui gruppi muscolari. Potete eseguire l'esercizio in due modi. 1. Con passo breve. Forte sollecitazione del muscolo quadricipite e carico di lavoro ridotto sul gluteo. 2. Con passo lungo. Forte sollecitazione del muscolo grande gluteo e dei muscoli ischio-crurali, con conseguente allungamento del retto femorale dell'arto arretrato. Errori comuni. 1. Appoggiare al suolo il ginocchio dell'arto arretrato. 2. Curvare la schiena dopo aver eseguito il passo in avanti. 3. Ampiezza delle gambe eccessiva, che procura una posizione instabile, e causa problemi di equilibrio durante l'esecuzione.